buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale sentiamo sempre parlare di bloc cene registro pubblico registro immutabile distribuito possibilità di trasferire valore o beni all'interno della bloc cene ma se volessimo pubblicare un qualcosa sulla bloc cene un bene se volessimo pubblicare un file che poi ne attesti la nostra proprietà come si fa sulla blog chain quali servizi possiamo utilizzare per scrivere su questo registro nel video di oggi andiamo a vedere un breve tutorial su come poter inserire un file su blog chain ovviamente dopo la sigla tantissimi servizi che offrono la possibilità di registrare un un file dei beni dei documenti all'interno della blog chain uno dei tanti ed edit punto io che offre la possibilità di andare a registrare un documento addirittura sulla blog chain di algorand attraverso la blog chain ad esempio noi possiamo andare a rivendicare la proprietà eventualmente di un documento provare l'esistenza di quel documento che il nostro possesso scrivendo un documento all'interno della blog chain andiamo a ricevere un dato importantissimo ovvero il dato time stamp o più semplicemente viene chiamato tra virgolettato data certa questo time stamp o data certa in italia dal 2019 a valore probatorio questo decreto potete andare a vedere tranquillamente è il decreto semplificazione pubblicato nel 2019 più precisamente il 16 febbraio 2019 ovvero semplicemente la blog chain e gli smart contract diventano legge scrivere sulla blog chain inserire dei file o qualsiasi altro documento e ottenere una data certa può essere per l'appunto utilizzato legalmente come valore probatorio però questa non è mia materia quindi vi invito se avete voglia a leggervi il decreto ed approfondire autonomamente ma vediamo adesso comandare inserire un file su blog chain quindi supponiamo di voler utilizzare dedit dobbiamo creare un account cliccando su registrati inserire nome cognome email e password e andare a registrare il nostro account scrivere sulla blog chain ovviamente ha un costo che varia anche a seconda della blog chain che si va a utilizzare se andiamo a cliccare su piani vediamo che possiamo scrivere sulla blog chain di algoran cioè praticamente il piano free che vi dà la possibilità di scrivere di caricare 5 notarizzazioni multi sing con una custodia di 10 megabyte che praticamente al costo di 0,01 centesimo annuale c'è poi il piano medium con 30 anni con 30 notarizzazioni 100 megabyte di custodia quasi 15 euro all'anno il piano pro 50 euro all'anno 102 notarizzazioni e un gigabyte di custodia ma vediamo come registrare un file cliccando sulla home abbiamo la possibilità di andare a trascinare un file all'interno di dedit per fare ciò bisogna o trascinare un file o cliccare due volte sul mouse e si aprono le cartelle del computer io vado a selezionare un semplice file di cui uno di questi che sto utilizzando per la creazione degli articoli sul mio blog che presto sarà online e voglio fare la prova andando a registrare che cosa sono i wallet quindi clicco due volte su cosa sono i wallet vedete che questa registrazione è inesistente ovvero questo file non è ancora stato registrato su block chain ed è andato il portale a calcolare lash lash value del mio file ovvero come se fosse l'impronta digitale come dice univoca del mio file procedo cliccando su registra posso scrivere una descrizione visibili a tutte sulla blog chain io scrivo una cosa a caso tanto per farvi vedere che si può scrivere all'interno di questo form si clicca su avanti si può andare a scegliere se costodirlo su uno storage centralizzato oppure in archiviazione decentralizzata o il piano attivo da un centesimo clicco su s3 e vado a cliccare avanti ad inserire la mia pasta di registrazione clicco su registra attendo qualche secondo e il mio file sarà su blog chain di algorand perfetta la registrazione sulla blog chain di algorand è andata a buon fine abbiamo lash la breve descrizione la marca temporale ovvero la data e l'ora esatta della scritta della trascrizione su blog chain chi ha registrato il file il registrante la transazione che è possibile andarla anche a verificare sull'algorand explorer vedete qua a prenderlo c'è la transaction id del file che ho registrato sulla blog chain la possibilità nel caso fosse un documento che ha bisogno di avere una multifirma non so magari un atto proveniente da un'assemblea condominiale supponiamo che tutti i condomini debbano firmare questo file si possono andare a inserire le email e il file verrebbe inviato ai destinatari via email per essere contro firmato cliccando su scarica certificato sia al download di questo file che va a indicare appunto il certificato di registrazione sulla blog chain questo file è molto importante qualora dovessi andare a dimostrare la proprietà di quei file la paternità di quel documento possa andarlo a verificare con questo certificato il certificato è composto dal nome di chi ha richiesto la certificazione caricato il file e le verification qr code e il time stamp ora torno indietro e voglio andare a verificare se quel documento è scritto sulla blog chain clicco due volte su il caricatore del file vado a riselezionare il mio documento lascio caricare e come vedete quel documento viene riconosciuto dalla blog chain di algorand e per l'appunto questa registrazione valida è correttamente firmata quindi va a indicare che il mio documento è davvero registrato sulla blog chain nel video in questione abbiamo visto la blog chain di algorand ma noi possiamo registrare anche sulla blog chain di tiro in su qualsiasi altro tipo di blog chain bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento spero che questo video sia stato di vostro gradimento e lo abbiate trovato utile vi invito come sempre per supportare il mio lavoro ad iscrivervi al canale youtube che veramente è un'azione di pochi secondi ma per me ha un valore inestimabile e se avete voglia di fare due chiacchiere insieme a noi o avete bisogno di assistenza sperando di potervala offrire ovviamente in base alle nostre conoscenze vi invito ad unirvi anche la nostra community di telegram grazie a tutti ci vediamo presto